Non sono coperti dal servizio sanitario i servizi di eccellenza forniti dall'unica camera iperbarica presente nelle marche. Infatti l'ambulatorio privato di Via delle Querce a Fano, in zona ex zuccherificio, non ha una convenzione, nonostante sia stata richiesta più volte dalla direzione sanitaria della struttura. E il tutto a discapito di quei cittadini che non riescono a sostenere le spese di ogni trattamento. Così come sta accadendo a Onfanese, costretto a fare il pendolare fino a Bologna pur di sottoporsi a 10 terapie con ossigeno puro. I protagonisti di questa odissea purtroppo sono in tanti, perché come ci spiega il direttore sanitario del centro, i trattamenti sono costosi e le patologie che necessitano di questo tipo di cura sono numerose e vanno dalle infezioni alle ulcere cutanee, dalla sordità improvvisa, traumi e fratture, dai trapianti alla sclerosi multipla. I costi sono abbastanza elevati, nel senso che non partendo mai da meno di 15 sedute, ovviamente i pazienti si trovano ad affrontare una spesa abbastanza grossa. Le patologie possono richiedere trattamenti anche di 40, 50, addirittura 80 sedute. E la terapia viene rimborsata parzialmente, cioè su 93 euro a seduta viene rimborsato circa il 50%. Ovviamente è una volta che il paziente ha terminato il trattamento, facendo richiesta apposita alla propria ASL competente. La crisi di certo mette in difficoltà alcuni pazienti che per risparmiare decidono di recarsi fuori regione. D'altra parte, per frenare la mobilità passiva, i responsabili del laboratorio fanese hanno eseguito dei lavori di adeguamento nei locali per ottenere l'accreditamento, che è arrivato sei anni fa con una nota di eccellenza. Ma da allora sono ancora in attesa di una convenzione con il sistema sanitario regionale. Nonostante i numerosi discorsi favorevoli da parte di esponenti politici, da parte di responsabili della sanità, a tutt'oggi, dal 2010 al 2016, ancora non abbiamo ottenuto granché. Questo ci dispiace. Poi non trovare dall'altra parte una risposta favorevole, sia per noi, per favorirci in determinate situazioni, ma soprattutto, che è poi anche il compito etico di qualsiasi struttura sanitaria, quello di favorire la salute dei cittadini, che rimane comunque il nodo fondamentale della situazione.